Non si ferma più il tarmevigliatore che sbanca anche il buonaiuto somma di Masca Lucia, vittoria per 1-0 sulla Catania Sampio X, decide una rete al minuto 87 del nuovo entrato Caliri che consegna tre punti pesantissimi alla squadra allenata da Salvatore Cambria. Un risultato preziosissimo per i ragazzi della Presidente Stefano Baresi che a sorpresa continuano a mantenere la testa della classifica del girone B di eccellenza con 10 punti. Terza vittoria in quattro partite per i Termali che nel prossimo turno torneranno a giocare in casa al Comunale Italia 90 contro il Camaro. Una gara che il tarmevigliatore approccia subito col piglio giusto e dopo 5 minuti potrebbe sbloccarla con Genovese che, ben servito in aria da Bartuccio, calcia col destro con palla che si perde di poco alta sulla traversa. La risposta del Catania Sampio X non si lascia attendere, al decimo Abate verticalizza Persagnà che conclude dal limite dell'aria ma Foti risponde presente. Poi al quattordicesimo l'episodio chiave del match quando il portiere di casa Romano tocca il pallone con le mani fuori dall'aria di rigore beccandosi il rosso diretto dal signor Mattace Raso di Messina. Espulsione che costringe l'allenatore di casa Decento a sostituire Sagna per il secondo portiere Signorino. Nonostante l'inferiorità numerica, al diciannovesimo la formazione bianco-rossa ha la grande occasione per passare con Garufi che sull'ottima imbeccata di Privitera calcia a colpo sicuro trovando però un super Foti a negargli la gioia del gol. Gol che sul ribaltamento di fronte sfiora per due volte anche il termo evigliatore. Al trentunesimo direttamente da un rilancio di Foti il difensore di casa Scalia per poco non rischia l'autogol con la palla che sfiora il palo. E poi dal successivo corner il neo entrato Signorino deve superarsi sulla botta di Genovese con la palla che rimane lì e Puzzone che di testa da pochi passi non riesce a trovare lo specchio della porta. Nella ripresa la formazione giallo-rosso-verde spinge alla ricerca del vantaggio. Condanna che al minuto 55 pennella per Genovese che entra in area e rientra sul sinistro ma poi conclude alto sulla traversa. Nove minuti più tardi ancora termo evigliatore pericoloso con il mancino dal limite dell'aria di Bucolo che non c'entra di poco il bersaglio. L'undici di Cambria ci crede al sessantottesimo triolo dalla sinistra mette in area per Calabrese che conclude di prima intenzione trovando la deviazione di Mascali e la successiva parata di Signorino. Gli sforzi dei Termali però vengono premiati al minuto 87 quando Caliri riprende la corta respinta di Signorino sulla punizione calciata dal Chico Dan e col destro mette alle spalle del portiere il pallone che di fatto porta in vantaggio i suoi. Esplode la gioia in campo per i giallo-rosso-verdi del presidente Baresi che quasi sui titoli di goda trovano la pesantissima rete con il neo entrato Carmelo Caliri. Bravo a firmare così l'1-0 per il termo evigliatore e la sua seconda rete stagionale. Nel finale la squadra di Cambria potrebbe chiudere la pratica Sampio con Gerovese ma il tiro del 10 giallo-rosso-verde viene smanacciato dal portiere. Poi dopo 4 minuti di recupero concessi da Mattaceraso di Messina il termo evigliatore può gioire per la vittoria e per il primato solitario in classifica. Devo dire veramente bravi bravi ai miei ragazzi che continuano a stupire veramente ogni settimana. Che dire abbiamo giocato contro un'ottima squadra innanzitutto una squadra tosta una squadra di categoria ben messa in campo poi noi però siamo stati bravi a imporre il nostro gioco cercando di non fare barricate ma venire qui a giocarcela a viso aperto. La grande mentalità che stanno acquisendo questi ragazzi di settimana in settimana lo dice il fatto che riusciamo a trovare golle anche a fine partita. Questo sa significare che non ci accontentiamo, non andiamo lì ad arroccarci ma semplicemente a cercare il gol fino alla fine. Questo è il grande senso di maturità e oggi era un banco di prova importante per noi per capire di quale pasta siamo fatti però rimaniamo sempre con i piedi per terra perché ripeto mancano ancora 30 punti per noi. Questa partita è stata molto chiusa, sul livello tattico molto chiusa e appena sono entrato ho subito sbloccato la partita e sono molto emozionato. A chi vuoi dedicare questo gol o a questa vittoria? A tutta la squadra e a tutta la mia famiglia.